Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 14 gennaio 2022. Il sole sorge alle 7.39 e tramonta alle 16.55 e vediamo ora il santo del giorno per iniziare bene la giornata e vediamo un santo che porta un nome benaugurante ovvero San Felice Danola Vescovo, nacque nella seconda metà del terzo secolo da nobile famiglia, fu perseguitato per la sua fede cristiana e imprigionato, si disse poi che fu liberato da un angelo come San Pietro, come appunto narra il Vangelo per San Pietro, imprigionato di nuovo riacquistò la libertà passando in mezzo ai suoi persecutori i quali non si accorsero che era lui e quindi non lo riconobbero. Condusse una vita convertendo i suoi concittadini, era appunto Vescovo di Nola, senza recuperare i beni che i suoi persecutori gli avevano tolto ma coltivando un semplice orticello, quindi un uomo santo, un uomo umile. E veniamo ora alle previsioni del tempo. Abbiamo un tempo che rimane nella nostra regione stabile con il sole, vediamo appunto la grafica che dimostra come non ci siano nuvole sparse, quindi un cielo sereno stabile con cieli sereni ovunque. La giornata è di assoluta stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Ci sono soltanto delle nubi nell'Appennino, magari anche in Sardegna, ma nel tutto in centro Italia il tempo è buono. Oggi purtroppo non abbiamo il Corriere Adriatico, stamattina in edicola ancora non c'era, abbiamo soltanto il resto del Carlino, poi vedremo appunto se il giornale arriverà più tardi nell'edicole oppure oggi per un incidente di carattere tecnico non verrà distribuito. Intanto però voglio salutare non soltanto le persone che ci vedono in video, ma anche quelle che ci vedono su Facebook, quindi una platea di ascoltatori che è sempre più affezionata appunto alla nostra rassegna stampa. Diamo un'occhiata, dicevo, al resto del Carlino, passando per la pagina di Pesaro, anzi di Fano e vediamo come le notizie principali sono tutte dedicate alla cronaca. Corinaldo, andiamo spediti verso la sentenza. Strage in disco la banda dello spray in aula per l'appello. Le conclusioni per il 10 e il 17 marzo. I familiari non troviamo pace. Sono diversi concetti che vengono sintetizzati e riassunti in questo titolino che appunto fa a corredo al titolo più grande. Andiamo spediti verso la sentenza. La banda dello spray è tornata dunque in aula, in Ancona, però viene evidenziato l'articolo sulla pagina di Fano, in quanto purtroppo Fano ha avuto una vittima indimenticata. L'intenzione della Corte d'Assise d'Appello è di chiudere tutto entro due mesi e arrivare alla sentenza per l'udienza del 10 o 17 marzo. E ieri c'erano tutti in aula, c'erano tutti i ragazzi, eccetto uno a causa del Covid, sono i sei ragazzi della bassa modenese che causarono i morti alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Gli imputati della Lanterna sono ancora tutti in carcere, dove stanno studiando e facendo programmi lavorativi. La prossima udienza è stata fissata per il 20 gennaio prossimo. Inizierà la Procura Generale, poi seguiranno le date del 3 e 10 febbraio per le parti civili. È stata un'udienza solo introduttiva, ha commentato Francesco Vitali, che è il fratello di una vittima. Stiamo aspettando giustizia da più di tre anni. Siamo stanchi, cerchiamo di pensare positivo e guardare avanti, sperare che prima o poi, se arrivi ad una condanna, finalmente mia sorella e le altre vittime saranno in pace, appunto ha dichiarato Francesco Vitali. avanti tutta anche con un filone bis, cioè c'è un altro processo che si sta celebrando in contemporanea quello appunto della Corte di Ancona. Ma l'appello procede così veloce che si sovrapporrà agli altri procedimenti per la strage attesa per un ottavo indagato. E l'appello della banda dello spray andrà così spedito da sovrapporsi appunto ad altri procedimenti già in piedi per la strage della Lanterna Azzurra. Abbiamo visto appunto quello in atto in Ancona, dove dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno anche il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, e i membri della Commissione che hanno rilasciato la licenza di pubblico spettacolo al locale, nonostante le carenze strutturali che poi sono state evidenziate, scoperte appunto nel corso delle indagini che sono seguite alla strage appunto della Lanterna Azzurra. E veniamo ad altri episodi di cronaca. Tentato omicidio a Marotta, alvia il processo. O imputato è un 43enne accusato di aver aggredito un buttafuori. La miccia della lite sarebbe stato un debito di 70 euro, appena 70 euro. Si è aperto dunque ieri il processo contro Nicola Di Lorenzo Freschi. Il pregiudicato 43enne di Marotta, che ad agosto scorso ha ferito con un coltello e un paio di forbici un 47enne, anche lui del posto, buttafuori nei locali del litorale, provocandogli una grave lesione ad un rene. Rabbia e sangue tra le accuse della Procura, anche lesioni e tentata estorsione. Dunque un nuovo processo. Entra in farmacia e ruba rossetti e profumi per 320 euro. Una quarantenne alla sbarra. Doveva rinnovare la sua fornitura di trucchi, rossetti, profumi, prodotti di bellezza. Come fare? Non aveva soldi. Allora è entrata in una farmacia una quarantenne fanese, tutta ben vestita, con modi molto gentili, incensurata. La farmacia era la Bannucci di Fano. Ha comprato qualcosa di poco conto, ma intanto nella sua borsetta ha intascato, ha infilato uno zainetto di trucchi per 320 euro di valore. Ed è stata così rapida che al momento nessuno se ne è accorto. Si sono accorti, se ne è accorto il personale, quando ha fatto l'inventario appunto dei prodotti e si sono accorti che mancavano diverse cose di bellezza, diversi prodotti di bellezza per oltre 300 euro. Presentata la denuncia, ieri la donna, che è di origine straniera ma è residente a Fano da molti anni, è stata chiamata a rispondere di furto al Tribunale di Pesaro. In fase di indagini la donna non ha dato spiegazioni per quanto ha compiuto, ha detto soltanto che non aveva soldi e quindi ho fatto quello che ho fatto. All'Eliceo Torelli di Pergola, che è collegato al Liceo Torelli di Fano, si punta su inglese e ambiente. È una iniziativa che riguarda un po' le promozioni che ora gli istituti scolastici fanno in vista delle prossime iscrizioni. Col crowdfunding, una mano a 13 onlus. Ieri si è svolta una conferenza stampa da parte della Fondazione Carifano per illustrare le risultanze di un progetto che vede la Fondazione investire nel settore del volontariato 55 mila euro, una cifra considerevole, che però viene investita con un procedimento particolare. Cioè non è un contributo a fondo perduto che viene rilasciato alle associazioni, ma si invita a queste ultime a cercare soldi per conto loro. Ebbene, sono 13 associazioni che hanno partecipato a questa iniziativa e tra tutte hanno raccolto 104 mila euro, insomma una cifra considerevole. E la Fondazione cosa ha fatto? La Fondazione interviene aumentando questa cifra a loro disposizione con 55 mila euro. Un procedimento che la Fondazione Carifano rinnoverà anche con le prossime iniziative. Il grande cinema parla ancora fanese con Andrea Giomaro. Andrea Giomaro è un mago degli effetti speciali. Un ragazzo dotato di una inventiva e di una manualità particolarmente forte, particolarmente invidiabile, particolarmente esperta. Ancora un altro aggettivo, particolarmente creativa. Un lavoro a quattro mani, tutto uno strano, nel successo La Befana vien di notte due le origini. E dopo aver trasformato Paola Cortellesi nella vecchina più amata dai bambini nel film La Befana vien di notte, ora c'è un replay, ebbene c'è ancora la mano fanese nella trasformazione del fisico filiforme di Fabio De Luigi in quello di un muscoloso e cattivissimo barone De Michelis. Nel film La Befana vien di notte due, che è giunto alla nonna posizione sui dieci film più visti appunto dal pubblico. E qui vediamo appunto il filiforme, tra virgolette, Fabio De Luigi, trasformato in un muscoloso e cattivissimo barone appunto da Andrea Giomaro. Ad Urbino, Covid e ospedale, la regione ci ascolti, è un appello del sindaco Gambini all'assessore Salta Martini. L'assemblea dei sindaci resta strategica per le scelte sanitari e oggi si riunisce l'area vasta. Oggi c'è l'assemblea dei sindaci di area vasta in modalità online. È un'iniziativa in cui dovrebbero partecipare anche l'assessore Salta Martini e altri tecnici. Come primi cittadini abbiamo preparato, ha detto Gambini, un documento sul fatto che l'assemblea dei sindaci abbia un cambio di regolamento, cosa molto importante che prevede che i sindaci, che sono i primi responsabili della salute pubblica, siano ascoltati. Spesso così non è stato in passato. La regione ha così sovrapposto i suoi indirizzi alle aspettative dei sindaci e appunto questa cosa non viene tollerata. Il sindaco Maurizio Gambini sul tema della sanità vuole andare fino in fondo e dopo l'invito al governatore Francesco Acquaroli di partecipare ad una seduta del Consiglio Comunale Urbinate, non ricevendo risposte alla sua richiesta, è andato ad estendere nuovamente il suo invito direttamente ad Ancona. Insomma, una insistenza che vuole raggiungere a tutti i costi l'obiettivo prefisso. 3.000 visitatori ad Urbino per le vie dei presepi. La Proloco traccia un bilancio degli eventi nei giorni di Natale. Betti e Volponi siamo tornati ai livelli di alcuni anni fa e vediamo qui Giovanni Valponi e Nicola Betti, vicepresidente e presidente della Proloco di Urbino. Abbiamo staccato 2.040 biglietti, hanno detto i due responsabili della Proloco, dato che i minori di 14 anni non pagavano. Sicuramente abbiamo superato almeno i 3.000 visitatori, calcolando appunto anche i ragazzi. Una iniziativa, quella delle vie dei presepi, che valorizza ancora di più la città ducale, che in sé ha un paesaggio già che configura un presepe di cultura e di ambiente. Commissariato al Sasso? No. Marco Lanzi, che è il segretario del sindacato di Polizia SIULP, boccia senza appello l'ipotesi di realizzare la nuova sede del commissariato di Urbino nella zona artigianale. Dunque il sindacato dice no all'ipotesi di spostare il commissariato in località Sasso. Lo spiega il segretario provinciale Marco Lanzi, leggiamo in questo inizio di articolo pubblicato appunto dal resto del Carlino. La pandemia, qui Marco Lanzi fa anche un quadro delle difficoltà di organico che fa sì che il commissariato di Urbino abbia dei problemi per controllare poi tutto il territorio. Ad Urbino ci sono 28 operatori, dei quali solo 16, del ruolo di agenti assistenti. La pandemia poi ha ulteriormente peggiorato la situazione. Sono sempre di più le giornate nelle quali nell'arco delle 24 ore non vi è nessuna volante in servizio. Parlare di emergenza è ormai un eufemismo, dice Lanzi. La situazione è tragica, insostenibile. Bisogna intervenire. La carenza di personale non solo nel settore della sanità ma anche tra le forze dell'ordine è uno dei problemi più importanti da risolvere perché poi la sicurezza è una delle esigenze prioritarie della popolazione. E oggi Ferminiano dà l'addio a Lorenzo C. Un 26enne che mercoledì ha deciso di farla finita sparandosi un colpo con il fucile del nonno mentre si trovava nella sua abitazione. Un ragazzo serio e gentile, appassionato di motocross e di pesca. Abbiamo su questo articolo il cordoglio del sindaco Emanuele Feduzzi. Davvero sgomento per quanto è accaduto. Da domani lo spettacolo della neve sul Monte Catria. Nuova seggiovia, pista e vista mare e parco per i bambini. Veramente una pista nei pressi della costa perché il Monte Catria è molto lontano dalla costa adriatica e da lassù si vede un panorama bellissimo appunto con la vista mare. E veniamo alle pagine pesaresi dove si parla ovviamente in maniera prioritaria di sanità. Il Calino ci propone un viaggio tra i fantasmi del Covid. Chi sono i fantasmi del Covid? Sono i coloro che sono positivi ma hanno il Green Pass valido e quindi possono circolare, girare liberamente. Hanno saputo del contagio con un tampone rapido e hanno atteso inutilmente una telefonata da parte dell'Azur. Certificato verde attivo, potremmo girare liberamente. Ecco due storie emblematiche. Che cosa è accaduto? Sono i fantasmi, così appunto vengono definiti. Tra le tante storie c'è quella di Pierpaolo Bellucci, 38 anni, vaccinato con tre dosi. Ha avuto il booster il 12 dicembre scorso ed è positivo da sabato 8 gennaio, ma senza che nessuno lo sappia ufficialmente. Infatti, da quando gli è stato riscontrato il contagio tramite un tampone rapido che ha effettuato nella farmacia Zongo, non ha ancora ricevuto alcuna telefonata da parte dell'Azur per poter verificare la sua positività con un tampone molecolare che darebbe inizio al periodo di isolamento e quindi di sospensione del Green Pass. E quindi c'è una carenza, anche questa, che è significativa. Ma non è solo il solo caso. Ce n'è un altro. Un racconto simile, infatti, arriva da Matteo Fastigi, una quarantenne di Villa Fastigi, insegnante di sostegno all'Istituto Agrario Cecchi. La sua vicenda è ancora più paradossale perché ha fatto in tempo a contrarre il Covid e a diventare negativo senza mai essere contattato dall'Asu. Anche lui vaccinato con la terza dose è risultato poi positivo il 30 dicembre e sebbene non sia mai stato disposto ufficialmente l'isolamento, lui si è chiuso in casa fino a quando, il 10 gennaio scorso, un altro tampone fatto in farmacia non ne ha dato esito negativo. Quindi una cura fai da te. Perché in questo caso l'Asu non è stata tempestiva appunto a fare il suo compito, a svolgere il suo compito. Vaccini, 40 medici con l'esenzione. L'ordine, si firmano, i certificati a vicenda. E questo è un altro problema, un altro problema che dovrebbe rinvestire anche l'interesse dell'ordine pubblico. Numerosi camici bianchi infatti hanno presentato dichiarazioni di malattie pregresse per evitare di sottoporsi alla somministrazione. E chi è che certifica queste malattie pregresse? Sono i loro colleghi. Il presidente della categoria, Paolo Battistini, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia, dice, di fronte a queste cifre enormi, è nostro dovere intervenire e verificare la correttezza di quanto dichiarato. Spetta, sette di questi sono medici di famiglia, appunto, di quei medici che hanno questo aspetto. Intanto, tra ieri e oggi, sono stati posti fuori servizio perché Novax, altri dieci medici della provincia. Calano i contagi a Pesaro, ma a Pesaro toccano quota 340. Sono 59 i pazienti in intensiva, 73% sono Novax. Migliora la situazione dei contagi Covid in tutta la regione. Il bollettino Covid dice, infatti, che nelle ultime 24 ore sono calati nuovi positivi. E dopo i 2.397 casi dell'altro ieri, 547 con sintomi, ieri i nuovi contagi sono stati 1.955, di cui 454 sintomatici. Dei nuovi 1.955 contagi, la provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di nuovi casi, 797, seguita da Pesaro Urbino con 340, Fermo con 283, Ascoli Piceno con 259, Macerata con 178 e 98 casi fuori regione. Il tasso di incidenza scende a 813,04. Tribunale Lavori al Palo ormai è una falsa, insomma, questi lavori che procedono a singhiozzi al Tribunale di Pesaro. Non si trovano ora ai ponteggi, dice la ditta romana vincitrice dell'appalto. Se ne riparla tra tre mesi, mentre Via San Decenzio è semichiusa. Insomma, un problema questo che si trascina, ora occorrerà aspettare ancora tre mesi prima che i lavori riprendano. E i problemi anche per quanto riguarda la piscina di Via Togliatti. Adesso comunque si tratta prima l'ultimatum di Ricci. Ora Pentathlon e Casa VL starebbero discutendo sugli spazi acqua. Arceci c'è anche la Copernuoto. Ebbene, la federazione vuole abbassare la rata annuale rimanendo vicine ai 250 mila euro. Questo per quanto riguarda chi pagherà il mutuo. L'ultimatum di Ricci sulla piscina di Via Togliatti pare avere sbloccato una trattativa diventata complessa dalla partecipazione di troppi soggetti deboli. E chi sono questi soggetti? Da una parte c'è la federazione Pentathlon, che ha troppi debiti e troppe società che non vogliono mollare eccessivi spazi d'acqua. Dall'altra c'è la Copernuoto, scelta da Casa VL come socio per la gestione della piscina, che non può non ottimizzare l'uso delle stesse corsie. In mezzo sta il comune che non vuole fare saltare tutto e deve ricominciare da capo per trovare una soluzione a questo problema. Abbiamo, girando pagina, individuato un altro caso di cronaca, un caso squallido. L'orco è il patrigno molestata una ragazzina a dieci anni insieme a una compagna. Il racconto shock di una bambina che ha rievocato l'orrore di quei momenti, anche una sua amichetta vittima delle attenzioni dell'uomo. Ebbene, questa ragazzina aveva appena raccontato ai poliziotti di come l'uomo avesse perseguitato sua madre, che poi è passata ad un altro episodio ancora più squallido. Quello degli abusi sessuali che quello stesso uomo, ormai ex marito della mamma, un'albanese di 43 anni, imprenditore edile, l'avrebbe costretta a subire per tre anni, da quando lei ne aveva appena dieci. Sono delle molestie sessuali. Si tratta di massaggi e palpeggiamenti proibiti, che sarebbero stati riservati un'unica volta anche a una sua amichetta. Un racconto shock, questo che ha fatto scattare contro il patrigno, già ai domiciliari, per lo stalking contro la moglie, una denuncia per violenza sessuale su minori. E poi aveva anche dei precedenti. Questo uomo, otto anni fa, era stato condannato per atti persecutori contro una fidanzata. Giriamo ancora la pagina e vediamo come a Pesaro si esaminano anche i problemi dei rifiuti. Si tratta del consigliere comunale di opposizione Gambini. Cassonetti, così non va. Il consigliere comunale chiede una pulizia sistematica. Lo dobbiamo ai residenti e ai turisti che vengono in città d'estate, ha dichiarato. E qui vediamo due fotografie. Una per quanto riguarda l'isola ecologica di Via Scarlatti, a Villa San Martino, dove c'è un abbandono selvaggio dei rifiuti. E qui invece l'isola ecologica di Via Pulcini, realizzata appena 15 giorni fa. Qui abbiamo un'isola tutto in ordine, qua abbiamo un'isola con l'abbandono di rifiuti selvaggio. Via Fratti, lavori in corso, ecco come è cambiata la viabilità dopo l'intervento di Marche Multiservizi. E qui abbiamo appunto la spiegazione delle nuove iniziative prese per quanto riguarda il cambio di viabilità. Passiamo ora allo sport e vediamo che il resto del Carlino parla della vis con due firme per il futuro. Sono quelle di Farroni e del Baby Sanogo. Bosco si assicura il superportiere della Regina, che vincola fino al 2025. E arriva anche l'attaccante diciassettenne del Fanfulla, seguito da Tempo, ovvero il Baby Sanogo. Rapidità e capacità di saltare l'uomo, Giraudo a Reggio, Calabria riscatto dopo sette gare. E sono un po' gli argomenti in sintesi per questo periodo in cui il campionato è fermo e si cerca appunto di carburare per essere pronti ad affrontare il primo avversario non appena appunto il campionato riprenderà. Alma Juventus, Spoltore, riprogramma il Fano. I ritmi di lavoro sono molto alti. Mattia Spoltore, 33 anni, è il preparatore atletico dei Granata. Periodo molto particolare, dice, abbiamo 12 reduci, ma per tutti alta intensità di allenamenti. Insomma, anche qui abbiamo una intervista che riguarda un po' il lato atletico, non solo quello tecnico e strategico per i giocatori del Fano Calcio. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7. E per quanto riguarda le notizie del giorno, ad occhio alla notizia, il ETG di Fano TV delle ore 20 e 30, condotto da Simona Zonghetti. E questo è tutto per il momento. A risentirci. A risentirci. A risentirci. A risentirci. A risentirci. A risentirci. A risentirci.